Ben trovati al consueto appuntamento con le tendenze a medio-lungo termine. Cominciamo a dare un'occhiata a quella che sarà la tendenza prevista per la seconda decada di novembre, quindi il weekend tra il 19 e il 20 del mese. Stando ai dati attuali che necessitano però di ulteriori conferme, una saccatura in discesa da nord-atlantico si porterà verso il Mediterraneo, centro-occidentale. Anche l'Italia in questo caso verrebbe raggiunta in un primo momento le nostre regioni settentrionali e quelle del medio-alto versante tirrenico, che verrebbero quindi interessate dal passaggio di nuove perturbazioni, quindi una fase nuovamente piovosa, con nevicate anche sull'arco alpino e un progressivo abbassamento delle temperature, mentre inizialmente il centro-sud rimarrebbe più riparato da un campo di alta pressione. Se l'evoluzione venisse confermata, poi questo fronte perturbato si dovrebbe portare nei giorni successivi anche al centro-sud. Ne riparleremo però nei prossimi aggiornamenti, intanto per ulteriori dettagli scaricate la nuova app di Trebi Meteo.